Benvenuti nella contro rassegna stampa delle notizie meno diffuse in Italia dai media euroatlantisti. Lasciati completamente da soli nonostante le promesse due squadre dell'esercito ucraino e delle forze armate AFU. I comandanti hanno promesso in precedenza una copertura aerea tramite droni velivoli senza pilota umano, un aiuto militare. E immediatamente invece dell'aiuto sono arrivate le squadre russe a imprigionare questi uomini malcapitati. 2 ottobre scorso un articolo di qualche giorno fa, un articolo di Ria Novosti, una notizia diffusa dalla parte russa, prospettiva russa, meno diffusa in Italia. L'episodio è avvenuto, incredibile, abbastanza incredibile è avvenuto nei pressi di Archeomosco, Bakhmut, famosa città del Daniesk. La fonte primaria sono appunto i servizi militari di Mosca. Parliamo di due squadre delle AFU. La 77esima brigata d'aviazione, 56esima brigata di fanteria motorizzata, tutti ovviamente imprigionati dalla controparte russa dal nemico militare. Sono state distrutte dall'esercito russo e delle forze armate russe i magazzini dell'aviazione ucraina, un magazzino vicino ad Dnipropetrovsk in l'Ucraina del 91 orientale, articolo di un giorno prima del 2 ottobre scorso. Distrutto anche un deposito di aerei da guerra, per riferirlo il Ministero della Difesa russo, il portavoce Igor Konashenkov, nel bollettino di guerra di qualche giornata fa. Nel Oblast, nella regione di Zaporizia-Zaporoshe, nel comune vicino al comune di Preobrasenka, è stato distrutto un centro di disturbo elettromagnetico delle forze armate ucraine. In Luhansk, in LNR, vicino al comune di Petrovski, è stato colpito un centro comunicativo della 66esima brigata dell'esercito ucraino. Ancora distrutte sempre il 3 ottobre, siamo sempre in quelle ore lì, c'è stato un grande bombardamento su larga scala, massiccio russo, proprio qualche giornata fa sull'Ucraina del 91. Distrutte anche un impianto di un'officina sostanzialmente per veicoli blindati militari ucraina nell'oblast di Arkiv o Arkhov. E a Dnipropetrovsk, vicino al comune di Plavograd, anche una fabbrica, una raffineria di combustibili per missili. A riferirlo sempre lo stesso di Castero del Cremlino. I soldati russi continueranno a garantire una rotazione per quanto riguarda gli uomini, quindi i soldati a difesa dell'impianto nucleare più grande d'Europa di Enerhodar, vicino a Zaporizia, centrale famosa, colpita costantemente da bombardamenti ucraini, anche sempre più con munizioni di fabbricazione occidentale. Una commissione di inquirenti russi SK ha definito, accusato di terrorismo contro civili, un'accusa formale a livello giudiziale contro il capo della GUR, dei servizi militari ucraini, Kirillov Budanov, e diversi altri alti ufficiali dell'esercito ucraino, proprio per attacchi di droni compiuti contro civili negli ultimi mesi, vari fronti di guerra, anche in territori russi. Il Ministero dell'Interno di Mosca, martedì scorso, ha emesso un mandato di cattura internazionale contro l'exì Arestovic, ex consigliere di Zelensky, che forse è ancora a Tel Aviv. A Donetsk, la più alta corte, martedì scorso sempre, ha condannato a 22 anni di reclusione per ognuno degli ex Azov, tre ex membri del reggimento Azov, che a marzo scorso avrebbero colpito, secondo la corte russa, con proiettili d'artiglieria alla popolazione civile, un quartiere residenziale di Mariupol. Un drone russo, Lancet, ha colpito e distrutto un veicolo blindato di produzione americana Max Pro in mano, ucraino, vino diffuso su Telenor da diversi canali russi di stampo militare mercoledì scorso. Il Max Pro è un veicolo molto protetto dal punto di vista contro le mine, per quanto riguarda i campi minati, MRAP, però è stato colpito da una parte vulnerabile superiore, come si vede bene dalle immagini. La distruzione sarebbe avvenuta a fine settembre scorso, qualche giorno fa, nel fronte della regione di Zaporizia. La Russia dice di aver mostrato in video delle prove, di avere delle prove inconfutabili, per quanto riguarda la fornitura statunitense all'esercito ucraino di giubbotti antiproiettili di qualità molto scadente, anche per l'evacuazione dei civili. Rostier, l'azienda pubblica russa produttrice di armi, ha diffuso delle immagini su Telegram lunedì scorso su giubbotti antiproiettili, carpiti come trofei nei vari fronti di guerra in Ucraina. Tre proiettili prova sparati contro questi dispositivi difensivi, contro un esemplare di giubbotti antiproiettili cinese, uno russo e un terzo, ovviamente, americano. L'americano ha sorpreso tutti gli esperti russi, come l'exei Yegorov, per la qualità scadente negativamente. È stato trafitto letteralmente da 15 metri da un proiettile di Kalashnikov AK-103. La Zakharova, portavoce del mistero degli esteri russo, ha reagito alle parole dell'omologa o quantomeno quasi omologa, ministra degli esteri tedesca, Annalena Berbo, che aveva parlato qualche giornata fa di un'Unione Europea che presto si estenderà da Lisbona in Portogallo a Luhansk in Ucraina, o meglio Russia, oggi, secondo la prospettiva russa, almeno dopo i famosi referendum. E quindi un messaggio su Telegram dalla Zakharova di stampo chiaramente ironico, in cui dice lei, o noi, Russia, entriamo in Unione Europea, e la vediamo tutti dura, oppure dovremmo fare una svolta a 360 gradi. In relazione a quella svarione fatto a febbraio 23, qualche mese fa, ormai un anno fa, dalla stessa Berbo che aveva parlato di un Putin, di una Mosca, che dovrebbero tranquillizzare e fare un favore a tutto il pianeta, la pace nel mondo e fare una svolta ad angolo giro, a 360 gradi e non a 180, ovviamente. Robert Fizzo, neo eletto, adesso vediamo se formerà una coalizione di governo, se ci riuscirà ad inizio novembre in Slovacchia, l'Orban Slovacco, venire chiamato da parte della stampa, quasi tutta la stampa italiana principale allineata. La guerra in Ucraina l'hanno provocata non i russi, ma i fascisti ucraini, l'hanno iniziata loro. Per esempio, dice Robert Fizzo, gli uomini del reggimento Alzov, che sono dei veri e propri hooligan da strada, che commettono cose veramente terribili. E nel mondo occidentale molti troppi srotolano persino dei tappeti rossi, in una sorta di passerella d'onore, dice lo Slovacco. Molti in Occidente, nell'elite politica, rimangono in silenzio, perché hanno paura dei giudizi, delle punizioni a Bruxelles e a Washington. Parla in effetti in maniera molto simile, non uguale, molto simile al primo ministro ungherese. Zelensky, vedremo poi delle belle, con una futura alleanza molto probabile tra Slovacchia e Ungheria, sul tema non solo dell'immigrazione, ma quindi anche dell'Ucraina e della fornitura alle armi, delle sanzioni antirusse, eccetera. Zelensky, a proposito, ha nominato, l'altro giorno, ha denominato un battaglione dell'esercito ucraino in onore di un rivoluzionario filofascista degli anni venti, ucraino. Nuova formazione militare delle forze di Kiev, intitolata Yevgen Konovalets, simpatizzante del fascismo italiano negli anni venti, che ha provocato una rivoluzione, ha guidato la rivoluzione per quanto riguarda il separatismo ucraino, nell'allora Polonia, dell'Ucraina di oggi nord-occidentale. Zelensky, l'ufficio di Zelensky, ha firmato, ha emesso un decreto per rinominare domenica scorsa il 131esimo battaglione dell'esercito ucraino, proprio in onore di Konovalets, che è nato in Galizia, la regione dell'attuale Ucraina, l'Ucraina del 91, veterano dell'esercito austriaco nella Prima Guerra Mondiale, poi separatista ucraino e con ulteriori esperienze militari successive nella sua vita. L'amministrazione della città di Munkach, siamo in Transcarpazia, Oblast dell'estremo ovest, dell'Ucraina del 91 con una grande minoranza ungherese, ha detto, testuali parole, un consigliere, il segretario di Baloga, Yuri Jamulich, che vedete in foto. Dice lui, se Orban fosse meno a favore Orosparti, il partito dei russi, russista, putinista, fate voi, non ci sarebbero problemi per la rimozione dell'uccello sacro, simbolo dell'ungheresità, della modia orciaga, il turul, nella rimozione delle bandiere della lingua ungherese nelle scuole. Dice lui, tranquillamente, ci sono dei passi, questi sono solo dei passi, delle decisioni della nostra amministrazione che Orban deve aspettarsi, deve capire il primo ministro ungherese, gli ungheresi devono capire con chi hanno a che fare in Ucraina. Quindi l'Ucraina mostra molta riconoscenza all'Ungheria per gli aiuti umanitari dati negli ultimi ormai anni di guerra. Il governo ungherese chiede garanzia affinché OTP, la banca, non ritorni nella lista nera degli sponsor internazionali del terrorismo della guerra ucraina promossa, scritta dalla NAZK Ucraina. Il ministro degli esteri di Budapest, Iarto Peter, ha reagito alla rimozione temporanea, poi non più temporanea, della banca maggiara dalla stessa lista. Vi ringrazio per aver visto questo video al prossimo tra Italia e Modio e Rohrzak.